169 casi su 8.003 tamponi processati, tasso di positività al 2,09%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 15 giugno. I casi emersi dal report precedente erano stati 47 su 3.405 test con positività all'1,38%. Il totale dei contagi da coronavirus registrati in Puglia sale a 252.449, di cui 11.311 attualmente positivi, 234.546 guariti e 6.592 deceduti. Due, di cui uno proveniente dal Foggiano ed uno dal Tarantino, sono i nuovi decessi. 1.273 sono i casi attivi in meno rispetto al 14 giugno. 1.440 sono i nuovi guariti. Cara da 283 a 269 il totale dei pazienti ricoverati. 11.042 sono i quarantenati. Su scala provinciale, il dato più alto di giornata è rappresentato dai 60 nuovi casi emersi nel Barese. 94.996 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 32 sono i nuovi positivi emersi nella BAT, 25.531 è il totale della provincia di Barletta-Andreatrani. Numeri simili nel Tarantino e nel Brindisino, zone nelle quali sono stati registrati rispettivamente 28 e 24 nuovi casi. 39.252 è il totale della zona ionica. 19.645 è quello dell'area messapica. 45.055 è il totale della capitanata, zona nella quale i nuovi contagi del 15 giugno sono 17. 7 sono infine i nuovi casi nell'eccese, un dato che porta a 26.800 il totale dell'area salentina. A chiudere il quadro è un residente fuori regione. 2.582.579 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.